Buongiorno a tutti, sono Roberta Chiappe, il mio compito, come diceva Sergio Tano, è quello di raccontarvi quello che è successo ieri pomeriggio in un evento innovativo che si chiama Comunicamp. Il Comunicamp però si inserisce all'interno di un'attività formativa che si chiama Fronto Fischiave in Mano, un percorso formativo rivolto proprio al network di Linea Amica. Allora io farei solo un velocissimo passo indietro e vi racconto di cosa si tratta. Intanto abbiamo parlato stamattina, abbiamo sentito da tutti gli interventi quanto conti il network di Linea Amica proprio per il funzionamento di Linea Amica. Perché abbiamo pensato di utilizzare anche la leva formativa e il social network e la comunità per il network? Intanto perché diciamo che ci permette di uniformare comunque gli standard qualitativi delle prestazioni delle diverse amministrazioni che come sappiamo sono spesso molto diverse dipendendo dai budget che hanno le amministrazioni, dai territori, dalle singole strutture. Ci permette di estendere i casi di miglior funzionamento su tutto il territorio nazionale, di valorizzare i risultati e di fondere le migliori pratiche. Perché ci tengo a dire che molto spesso i relatori nelle attività in questo percorso formativo frontofischiavi in mano sono state le stesse amministrazioni del network, sono state e sono tuttora. Questo ci ha permesso la grande collaborazione proprio che c'è stata con le amministrazioni del network a partire dall'IMP, dall'IMPS, l'INAIL, ma anche il Comune di Milano. Grosse e piccole amministrazioni ha permesso, devo dire, di costruire anche man mano un percorso che fosse sempre più, un pochino sempre più vicino anche alle esigenze delle persone che partecipavano. Ovviamente faccio riferimento a un'altra cosa che è stata detta stamattina. A cosa serve la rete? Nella rete bisogna essere un po' generosi, bisogna fornire, dare le nostre informazioni ma dalla rete se ne possono acquisire, rielaborate e arricchite molte altre. La rete e anche l'attività formativa ci permette di far circolare i saperi tra gli operatori, ci permette di far sì che si passi da una conoscenza tacita, implicita che c'è in ciascuno degli operatori ma che è ricchissima, a una conoscenza che sia esplicita e sia patrimonio comune di tutti. Qual è il percorso frontofis chiave in mano? È un percorso di formazione sui temi della comunicazione pubblica e in presenza a distanza nel senso che nel momento in cui abbiamo progettato un'attività formativa per il network di linea mica e quindi per amministrazioni che gestiscono dei contact center abbiamo dovuto anche pensare che questa attività non poteva essere un'attività solo in presenza perché se fai andare delle persone in aula per delle settimane intere devi chiudere i servizi al cittadino. Quindi in realtà abbiamo progettato un percorso che potesse essere integrato con soprattutto attività di formazione a distanza da fare anche in modo autonomo con tempi che gli operatori possono gestire in modo assolutamente autonomo però anche con degli eventi in presenza che poi permettono di arricchire e di integrare tutte le conoscenze ma soprattutto di fare scambio. Il reale scambio avviene proprio nelle attività in presenza in cui ci si incontra. Dottor Talamo prima aveva accennato un po' i numeri diciamo che siamo partiti con l'attività da settembre 2009 abbiamo fatto prima 12 edizioni chiusesi a febbraio adesso altre 4 e ne sono in programma ancora altre 8 quindi un'attività soprattutto dal nostro punto di vista un po' intensiva nel senso che rispetto a una progettazione iniziale in realtà la richiesta del network è stata molto forte su questa attività ha funzionato anche il passaparola perché comunque nelle successive edizioni sono state candidate a partecipare alla formazione altro personale delle stesse amministrazioni che avevano partecipato alle prime quindi in realtà oggi contiamo circa 900 partecipanti su 250 amministrazioni le attività di frontofischiavi in mano quindi sono il percorso formativo il social network, vi dicevo l'importanza della rete c'è un social network su innovatori PA nel quale tutti voi potete andare ci si può liberamente iscrivere è anche estremamente semplice e c'è un gruppo che si chiama Linea Amica Network sul quale si svolgono, come dire, ci sono tutti gli scambi le discussioni che avvengono anche nei percorsi formativi diciamo che è il luogo ideale dove si continua lo scambio al termine dei percorsi formativi e dove vorremmo che tutte le amministrazioni del network tutte le persone, non le amministrazioni entrassero e potessero condividere sono in programma poi la realizzazione anche di stage pensati più per i responsabili per i responsabili di front office e back office ora finalmente arrivo a raccontare qualcosa su quello che è successo ieri pomeriggio ieri è stato il primo comunicamp dei comunicatori pubblici il comunicamp, vi dico solo in due parole, è un evento che si svolge con la modalità del barcamp chi ha partecipato l'ha visto, chi non ha partecipato magari si incuriosisce lo potrà fare il prossimo anno è una conferenza non conferenza in cui non è come oggi quindi non c'è un tavolo dei relatori e dei partecipanti seduti ad ascoltare ma tutti i partecipanti possono essere relatori tutti possono proporre un tema si svolgono contemporaneamente molte discussioni su dieci tavoli in contemporanea quindi le discussioni sono non teoriche, non sono presentazioni formali ma sono discussioni operative diciamo che chi si iscrive a partecipare a un tavolo facilmente ha qualcosa da dire su quell'argomento quindi anche nei tavoli la discussione si svolge in modo molto interattivo avevamo circa 110 partecipanti per noi era un po' una sfida il primo comunicamp che abbiamo organizzato con i funzionari pubblici devo dire che i comunicatori hanno risposto benissimo anche mettendosi molto in gioco nei tavoli ci sono state discussioni molto vive ci sono state molte proposte quindi circa 110 partecipanti ripeto 18 relatori 8 tavoli in contemporanea ma su due sessioni quindi in totale 16 tavoli in cui si è parlato di 16 argomenti il risultato sono state 14 proposte concrete perché l'oggetto era come migliorare la comunicazione con il cittadino per la pubblica amministrazione quindi sono emerse delle proposte concrete al termine del comunicampo e le abbiamo fatte votare dai partecipanti stessi queste che vedete qua sono le prime tre diciamo le più votate la prima riguarda l'ambito sanità il coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali la seconda riguarda invece il riuso di applicazioni ai sistemi di CRM quindi si guarda più a una pubblica amministrazione 2.0 più sulla strumentazione tecnologica quindi e la terza proposta in realtà è una sul sistema di customer satisfaction devo dire ci sono stati diversi tavoli e diversi argomenti sulla customer che chiaramente per i servizi di attenzione al cittadino resta uno degli argomenti prioritari ora senza voler io leggerò brevemente di cosa si tratta però qual è il futuro di questa attività noi porteremo, metteremo su innovatori IPA e social network tutte le proposte che ci sono state e vorremmo che le proposte fossero votate da tutta la comunità cioè noi vorremmo che la comunità potesse dire anche quali secondo loro sono più trasferibili potessero comprare quasi delle proposte delle proposte di attività che siano immediatamente cantierabili quindi questa che nasce da un'esperienza reale della Regione Veneto riguarda proprio l'individuazione di una figura professionale capace di ascoltare la gente e riorganizzare i CUP per contribuire alla gestione della domanda dei cittadini nell'esperienza della Regione Veneto appunto questo ha proprio ristabilito il rapporto di fiducia con i cittadini questo è stato un tavolo un pochino più tecnologico che riguarda proprio l'incentivazione del riuso delle applicazioni che servano a gestire i contenuti delle pubbliche amministrazioni si parla di CRM ma in generale di sistemi di gestione dei contenuti o di condivisione della conoscenza e quindi si proponeva l'attivazione di uno spazio web sul sito del Ministero per l'Innovazione dove si potessero scaricare le applicazioni riusabili ma quelle sviluppate dalle pubbliche amministrazioni nel senso che la proposta era proprio cerchiamo di capire come sono messe le altre pubbliche amministrazioni quali sono le esperienze sulle applicazioni riusabili e poi condividere il CRM di linea mica con tutte le pubbliche amministrazioni che lo desidero per creare un sistema integrato di conoscenze la terza proposta vi dicevo riguardava il sistema di customer satisfaction io in particolare ho partecipato a un tavolo in cui c'è stato uno scambio di esperienze tra il Comune di Milano di cui l'assessore ha appunto recentemente parlato tra il Comune di Milano e l'INAIL abbiamo visto proprio due sistemi di grossienti a confronto due sistemi molto diversi perché ovviamente il rapporto con il cittadino di un comune anche se grosso è diverso da quello dell'INAIL però questa in particolare era comunque la proposta dell'ASO di Salerno ma devo dire la customer è sempre un argomento che interessa molto e in questo caso la proposta era proprio di creare un sistema di customer che fosse che utilizzi una tecnologia unica e che fosse integrato a livello nazionale e ovviamente il sistema di customer che sia trasparente però sia per l'amministrazione di riferimento che per i cittadini cioè l'ottica deve essere proprio messa su cosa il cittadino poi percepisce di tutta l'attività che c'è dietro spesso le amministrazioni fanno dei grandi sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti ma il cittadino poco ne percepisce quindi l'attenzione era su questo grazie a tutti Grazie a tutti.